Ciao, oggi voglio parlarti di qualcosa di veramente speciale. Ti è mai capitato nella vita di avere una serie di segnali che ti portano in una certa direzione? Ti è mai capitato magari di sentirti proprio chiamato a fare qualcosa? E poi dentro di te una vocina ti dice No, non puoi farlo, non puoi farlo, non è alla tua portata, per un qualsiasi motivo. Senti una vocina che in qualche modo ti limita. Ebbene, quella è la voce dell'ego e della mente che ha paura di portarti a fare qualcosa che normalmente non sei abituato a fare. Tieni conto che se questo sta succedendo nella tua vita è perché l'universo ti sta dando un forte segnale che magari tu stesso hai chiesto per aiutarti a cambiare, a cambiare quelli che sono gli schemi che ti portano verso il dolore, per aiutarti nel portarti proprio verso la tua direzione. Magari tu hai fatto una richiesta e l'universo ti sta rispondendo. E invece cosa accade? Che tu dici di no. E quindi chiudi la porta a quelle che sono le opportunità che l'universo ti sta offrendo. Tieni conto che quello che sta succedendo è una chiamata, una vera e propria chiamata ad agire. È normale che dentro di te si attivino tutta una serie di paure, che si attivino tutta una serie di schemi. Che sono anche connessi alle tue credenze limitanti perché comunque quelle sono magari attive. E quindi che cosa succede? Slam. Tu chiudi la porta alle infinite possibilità che l'universo ha di manifestarsi a te. E quindi rinunci alla tua chiamata. Tieni conto che quello è un campo magico. Se avviene quella cosa in quel dato momento è perché è proprio il momento buono e perfetto. Non è importante tutto il resto. Entra proprio nel campo magico dove tutto può essere realizzato e possibile. Perché è proprio quello che ti sta chiamando. È l'universo che sta bussando alla tua porta. E ti sta permettendo di diventare più grande, di andare oltre tutte quelle limitazioni che tu stesso hai creato nella tua vita. Se vuoi essere qualcosa di diverso, se vuoi creare qualcosa di diverso nella tua vita rispetto a quello che ti sei permesso di essere fino a questo momento e a realizzare e manifestare fino a questo momento, allora devi dire di sì. E anche se non sai come, di di sì. Perché l'universo ti sta aprendo una porta. Se tu non dici di sì all'universo stai dicendo no a te stesso. Ricordati che i campi magici non si aprono in tutti i momenti. E se tu fai una richiesta e quella richiesta viene soddisfatta e tu dici di no, a quel punto è un qualcosa di molto particolare perché spesso si aprono dei modi di fare, diciamo, degli esseri di luce che non sono proprio carini. Perché loro in tutti i modi cercano di portarti verso il tuo bene supremo. E se tu continui a dire di no, loro ci provano in tutti i modi. Quindi, quando ti senti chiamato, quando vedi che una serie di segnali ti portano in una certa direzione, di sì alla vita. Perché anche se non sai come, la vita, il come, te lo mostrerà. Un abbraccio. Ciao. 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 Grazie a tutti